Di Antonella Baccaro ed editoriale online Lucia Annunziata ha comunicato oggi le sue dimissioni irrevocabili con un e-mail al CEO Roberto Sergio, chiariscendo il disagio nella nuova raimeloniana e lasciando che la paura delle incursioni nel suo programma perdesse sia in termini autori che di editor termini turno nel programma Lucia Annunziata nello studio della sua trasmissione il giornalista ha comunicato suo addio all'emittente pubblica irrevocabile con un e-mail al nuovo amministratore. Delegato Roberto Sergio, il direttore generale Giammaolo Rossi e nuovo capo Insights Paolo Corsini, nominato oggi dal Consiglio di Amministrazione Viale Mazzini. Il disagio per nuovo raimeloniano l'email la voce delle possibili dimissioni una delle facce più conosciute della tv pubblica era già circolata per alcuni giorni.Oggi il giornalista, nell'email inviata al top management dell'azienda, ha reso esplicito suo disagio nel nuovo raimeloniano effetti ha lasciato perdere la paura di incursioni sul suo programma in mezz'ora più in termini con posizione autoriale del redattore cambiamenti nel programma. Arrivo a questa scelta senza reclami personali giudicherai, ora hai la responsabilità, il lavoro che ho svolto in questi anni, ha scritto Annunziata.Vengo da te perché non d'accordo con nulla sul lavoro del governo attuale, né in termini di contenuti né metodi.In particolare, non sono d'accordo con le modalità dell'intervento su Rai.Riconoscere questa distanza è un atto di serietà da parte mia verso l'azienda stai preparando a governare.Non ci condizioni per una collaborazione, quindi.E d'altra parte non ho intenzione intraprendere il percorso di un conflitto interno permanente al lavoro il giornalista sottolinea nuovo nella lettera spero che queste linee siano prese con la stessa serietà da parte tua.In attesa di indicazioni se e come concludere la stagione in corso, ti auguro buona fortuna.Contattata da Corriere della Sera a Trento, dove è per il Festival dell'Economia, Annunziata non voleva aggiungere nient'altro ho già spiegato tutto nella lettera, ha detto.La sua carriera nata a Salerno nel 1950, con una laurea in filosofia, Annunziata ha lavorato per anni per il Manifesto, La Repubblica e Corriere della Sera come corrispondente dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente.È tornata in Italia, si è trasferita a Rai dove ha diretto Tg3 e ha assunto, nel 2004, il ruolo di presidente.Ladio Fazio qualche giorno fa le dimissioni di Annunziata arriva pochi giorni dopo il non rinnovo del contratto Fabio Fazio, che si è trasferito alla scoperta.La politica nel suo insieme si sente legittimata dal risultato elettorale per comportarsi come proprietario verso gli affari pubblici con scarsa considerazione per il bene comune e con un'avidità traboccante, ha scritto Fazio commentando il suo addio a Rai.E non solo per quanto riguarda la televisione.Le reazioni, mi dispiace sinceramente, anche perché il mio primo atto nel consiglio è.